Buonasera, un minuto dopo l'una è l'ultima edizione del nostro telegiornale. Iniziamo subito con il coronavirus. Ci sono due fronti in Italia che continuano ad avere la massima attenzione, il contenimento del contagio e i provvedimenti del governo, provvedimenti che tendono a limitare le ricadute economiche dannose sul nostro paese e riportare una certa normalità nelle città, soprattutto quelle più colpite. Oltre 1.500 malati, il 9% ricoverato in terapia intensiva, 41 decessi ed 83 guariti. Più di 21.000 i tamponi effettuati per delimitare l'area del virus. Uno sforzo titanico per la sanità pubblica che ora chiede rinforzi. Verranno richiamati i medici in pensione e sbloccate le liste dei concorsi. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità il virus sarà già in circolazione dalla prima metà di gennaio e a tutti i costi va contenuta la propagazione dei contagi. Per questo il decreto del Presidente del Consiglio ordina la chiusura delle scuole fino all'8 marzo in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e nelle province di Savona e Pesaro Urbino. Introdotta anche la regola Droplet che impone minimo un metro di distanza tra le persone, no ad assembramenti in bar, ristoranti, musei e chiese. Anche il Friuli Venezia Giulia chiude le scuole per sette giorni mentre in Liguria riapriranno mercoledì. Il decreto prevede l'inefficacia delle ordinanze dei sindaci in materia di coronavirus se in contrasto con le misure del governo. A Roma è chiusa la chiesa di San Luigi dei Francesi e in isolamento i preti residenti dopo che uno dei sacerdoti rientrato a Parigi è stato trovato positivo al virus. Le sue condizioni non destano preoccupazione ed anche un agente della questura di Roma è risultato positivo. Ricoverato allo Spallanzani attende la conferma del secondo test. Il poliziotto era in malattia da martedì scorso ed avrebbe contratto il virus dopo la visita di un amico proveniente da una delle zone rosse. E slitta anche il mega evento di economia con il Papa previsto ad Assisi dal 26 al 28 marzo. Il pontefice d'intesa con il comitato ha fissato al 21 novembre 2020 la nuova data del suo incontro con i giovani. E nel mondo continua a crescere il timore visto che anche i contagi aumentano sensibilmente. Tipo fa la notizia che a Parigi l'edizione annuale del Salone del Libro in programma dal 20 al 23 marzo è stata cancellata appunto per i timori legati all'epidemia. Cresce il timore del contagio in tutto il mondo. In Europa forte preoccupazione in Francia che dopo l'Italia risulta essere la nazione del vecchio continente con il maggior numero di contagi. Il Museo del Louvre è stato chiuso per tutto il giorno. Annullate il Salone dell'agricoltura e la mezza maratona che si disputa nella capitale francese. Chiuse per precauzione fino a nuovo ordine anche le piscine del santuario di Lourdes. Una sacerdote della diocesi di Parigi che era stata a Roma ad essere ricoverato in Francia perché risultato positivo al test. Chiusa e sospese per precauzione le funzioni nella chiesa di San Luigi dei francesi. Anche lo scrittore Luis Sepulveda risulta contagiato dal virus. L'autore ha presentato i primi sintomi dopo essere rientrato dal Portogallo. Almeno 35 invece, 12 solo nelle ultime ore, le persone che in Gran Bretagna hanno manifestato i sintomi da contagio. Anche la Repubblica cieca con tre casi confermati dal Ministero della Sanità rientra nell'elenco dei paesi europei colpiti dal coronavirus. Le tre persone che sono risultate positive al Covid-19 avevano soggiornato in Italia, in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. E c'è molta preoccupazione nella Corea del Sud che dopo la Cina è il paese con il più alto numero di casi, circa 3.500. A Seul una donna che era guarita è poi risultata nuovamente contagiata. Molto critica la situazione anche in Iran dove il numero delle persone che hanno contratto il virus sarebbe largamente superiore a quello dichiarato dalle autorità di Teheran. Per la cronaca è indagato per eccesso colposo di legittima difesa il carabiniere in Borghese che la notte scorsa a Napoli ha colpito a morte con tre proiettili un ragazzo di 16 anni che aveva tentato di rapinarlo mentre era in compagnia della sua fidanzata. L'arma è impugnata dal giovane ucciso che si era avvicinato con un complice a bordo di uno scooter e era finta non in grado di sparare. Il militare ascoltato dai PM della procura di Napoli ha detto di aver reagito perché si sentiva in pericolo imminente. Secondo i familiari della vittima il ragazzo è stato colpito alle spalle dopo essere stato ferito. Appresa la notizia della morte, conoscenti e parenti della vittima hanno devastato il pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini danneggiando le attrezzature dopo aver aggredito il personale sanitario. Per lo sport il coronavirus ferma anche la MotoGP. È stato annullato infatti il Gran Premio del Qatar dell'8 marzo ed è stato rinviato l'appuntamento in Thailandia. Attorno al calcio invece si addensano ancora le polemiche sulle gare rinviate e su quelle da giocare o meno a porti chiuse in una giornata che ha visto comunque le vittorie sul campo di Atalanta e Roma. Al termine di una giornata convulsa una sola decisione è certa. Il rinvio a maggio anche di Sampdoria Verona di domani sera, ultimo match del già falcidiato 26esimo turno. E intanto la Lega Calcio prende tempo fino a mercoledì quando in una nuova assemblea potrebbe essere presentata l'ipotesi dello slittamento di un turno dell'intero calendario con la disputa nel prossimo weekend delle partite saltate in questo fine settimana e la programmazione a lunedì 9 marzo di Juventus-Inter, a quel punto aperta a tutti i tifosi visto che l'attuale ordinanza governativa su eventi a porte chiuse scadrebbe il giorno prima. Il tutto lasciando in mutate nella data e nell'accesso le due semifinali di Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter previste per il 4 e 5 marzo. E mentre le litigiosissime società cercano un'unità di intenti che sembra davvero difficile, per fortuna i giocatori riescono ancora a divertire quando possono scendere in campo. 16 gol in due partite e due vittorie in trasferta consentono ad Atalanta e Roma di mantenere immutati i distacchi nella corsa al quarto posto. I Bergamaschi a Lecce si fanno rimontare dal 2 a 0 fino al 2 a 2 salvo poi scatenare alla macchina da gol di un attacco che con 70 reti è il terzo in Europa dietro solo a Paris Saint Germain e Bayern Monaco. I giallorossi a Cagliari devono invece sudare fino al 96esimo per portare a casa la seconda vittoria consecutiva nonostante un'impressionante mole di gioco, 19 tiri con due traverse colpite. La doppietta di un re di Vivo Kalinic, il gol di Klaibert e la rete definitiva di Mkhitaryan condannano gli isolani che pure all'ottantottesimo avevano riaperto la partita con un rigore di Joao Pedro. Ed era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi e un buon proseguimento.